I motivi sono molti, ma possono essere riassunti sostanzialmente in un concetto. La scarsissima dignità che è sempre stata riconosciuta a chi lavora in pronto soccorso e in urgenza, sia dal punto di vista professionale, che dal punto di vista delle possibilità di avanzamento di carriera, di orizzonte futuro professionale dignitoso, che dal punto di vista anche direttamente economico, anche immediato. Parlano gli operatori sanitari dell'emergenza, spiegano con lucidità, perché sempre più medici e infermieri fuggono dai pronto soccorso, dai tunni massacranti, dalla pur legittima indignazione dei cittadini, che però frequentemente si fa rabbia, anche quando in ospedale non bisognerebbe andarci. Il problema sorge nel momento in cui il cittadino considera il pronto soccorso alla pari di un servizio di medicina territoriale, oppure semplicemente una scorciatoia per accedere prima a dei servizi dell'ospedale. E non ci sono solo i tagli economici di risorse umane degli ultimi anni, pesantissimi, dietro le criticità della medicina di urgenza. Quello di cui abbiamo necessità è assolutamente un'iniezione di risorse professionali, competenti, fresche, all'interno del sistema dell'emergenza di urgenza italiano, in particolare nei pronto soccorso. Camici bianchi e personale infermieristico consegnano un messaggio chiaro alle istituzioni. Non c'è più tempo da perdere. Vorremmo sentire parlare di più di sanità, non da un punto di vista polemico, ma da un punto di vista progettuale. Vorremmo sentire la parola sanità in questa campagna elettorale e non vorremmo delle promesse vaghe, ma degli impegni concreti, molto precisi, da prendere sin d'ora per il giorno dopo le elezioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.